Sorpasso provasto, la quintultima giornata di campionato corona il lungo inseguimento della squadra di Pino Di Meo che supera in vetta il Fano e sogna sempre di più il ritorno tra i pro. E dire che la giornata si era messa male, la trasferta di Macerata sulla carta abbordabile inizia in salita per effetto del gol di Biagioli. Nella ripresa la provasto si sveglia ed è un'altra storia, Soria firma la parità e dopo una serie di attacchi il gol partita arriva in zona Cesarini quando in mischia sbuca la testa di Enrio Corogi. I vastesi ringraziano il Morodoro che blocca il Fano a domicilio. Marchigiani avanti con Ionni nel primo tempo per un virtuale più 4 in classifica che si scioglie a partire dal gol del pareggio di Alessio Dragani nella ripresa. Punto pesante per i bianco-rossi di Amaulo che conservano tre punti di vantaggio sulla zona play-out e nelle ultime quattro giornate cercheranno i punti della tranquillità. Caratteristica questa che sta accompagnando la nuova linea dell'angolana, quella verde, dei giovani ben guidati da Paolo Bordoni. Secondo successo consecutivo, stavolta sul Montecchio per consolidare un piazzamento play-off. Un gol per tempo, il solito Pazzi nel primo, raddoppio del difensore Ciofani nella ripresa. Inutile il gol dei pesaresi timbrato da Borrelli nel finale. I nerazzurri restano in scia del Casoli che si conferma in grande forma andando ad espugnare d'autorità il nuovo Romagnoli di Campobasso, più di quanto dica lo stretto risultato di 1-0 fissato dalla zampata del difensore Pulcini. Approfittando del pareggio interno dell'Agnonese, il Chietti sale ad un punto di distanza dai play-off, regolando di misura la Sant'Egidiese nell'unico confronto tutta abruzzese. Decide nel finale la staffilata di Schiavone, risultato però troppo punitivo nei confronti di una bella Sant'Egidiese che ha tenuto bene il campo, non approfittando però delle occasioni create. Scivola sempre più in basso il canistro dopo la batosta subita a Porto Sant'Elpidio. Solo un'illusione il vantaggio timbrato da Donzelli, l'Elpidiense di Laga con Sperandeo su rigore, Cappelletti, Ledda e Catini. I rovetani recriminano per una serie di occasioni sciupate che avrebbero dato un altro senso al confronto prima di cedere nel finale. Si allontana a 6 punti la salvezza diretta ed ora uno sguardo va dato anche dietro con gli ultimi due posti a 5 punti di distanza.